La banca della provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Buonasera, la notizia è che lo yuan o renminbi, cioè la moneta della Repubblica Popolare Cinese, ha superato l'Euro nelle transazioni finanziarie commerciali che non vengono regolate per contanti, cioè vengono regolate per lo più con lettere di credito e quindi è diventata la seconda moneta al mondo in questo settore di particolare importanza dopo il dollaro che conserva il primato con un abbondante 81% di incidenza sul totale di queste transazioni, poi c'è lo yuan con un 8%, quasi 9% e poi è il terzo posto, scivolato al terzo posto, come abbiamo detto, la nostra divisa, la nostra moneta. Per avere un'idea di quanto sia stato importante, imponente il take off, il decollo della moneta cinese, basta ricordare che l'anno scorso la sua percentuale di inserimento era inferiore al 2%, d'altra parte lo yuan accompagna l'espressione di un'economia, quella cinese che sta progredendo continuamente, anche se con ritmi un po' più bassi rispetto a quelli del passato e sta sempre di più insidiando la leadership degli Stati Uniti d'America. L'euro invece è rimasto al secondo posto, anzi lo ha consolidato nelle transazioni finanziarie che invece vengono regolate per contanti alle spalle sempre del dollaro USA. La domanda a questo punto è, è una notizia positiva o no per la nostra economia? Per i paesi, in ottica più ampia, per i paesi europei che fatturano le loro esportazioni in Euro. È certamente positivo questo andamento, questo apprezzamento dello yuan, che nel 2012 si è apprezzato, è aumentato di valore rispetto al dollaro di 2,5 punti circa, anche se va ricordato, e questo è fondamentale, che lo yuan è una moneta a fluttuazione controllata, cioè si muove in un delta positivo o negativo, piuttosto ristretto, oltre il quale non può andare e questo ovviamente è causa di depreciamento di questa moneta che per la sua, perché rappresenta appunto la seconda economia mondiale, è troppo deprezzata nei confronti delle altre principali valute mondiali ed è stato, ripeto, fonte ed è ancora fonte di polemica nel mondo finanziario commerciale. Questo è avvenuto dopo che lo yuan si è sganciato dalla parità fissa con il dollaro nel luglio del 2005, ed ha agganciato le sue quotazioni a un paniere di divise internazionali. Comunque resta il fatto che un apprezzamento, anche se modesto, esiste e che quindi si accresce il potere di acquisto di un mercato straordinariamente importante come quello cinese, che coinvolge circa 1 miliardo e 300 milioni di persone e che in maniera anche piuttosto inusitata negli ultimi tempi è stato stimolato da provvedimenti interni della nuova dirigenza politica cinese. Quindi tutto ciò aumenta la competitività delle esportazioni europee e quindi anche di quelle italiane. Non a caso la Germania, che ha una particolare attenzione al comparto export, che va benissimo, ricordiamo che la Germania ha realizzato nel triennio 2010-2012 un surplus commerciale del più 6,5%, poi addirittura cresciuto all'attuale più 7%. La Germania, a dimostrazione di quanto sia importante lo Yuan e di quanto sia importante l'economia cinese, è uno dei paesi al mondo che più utilizza questa divisa. E anche recentemente, per allargare l'orizzonte, l'Inghilterra ha firmato un accordo simile con l'autorità cinese per utilizzare maggiormente la divisa della Repubblica Popolare Cinese. Sarebbe quindi opportuno che anche l'Italia si attrezzasse a supporto del suo export, che è fondamentale per la ripresa economica, che dovrebbe arrivare, non si sa in quale misura arriverà, ma dovrebbe arrivare e per appoggiare, ripeto, un comparto di esportazioni, quell'italiano che è stato sempre, ed è sempre molto sensibile nei confronti dei mercati asiatici. Ecco, in questo periodo l'Italia ha forti spinte di esportazione nel Giappone per la svalutazione, la forte svalutazione dello Yen nei confronti dell'Euro. L'Oyen è arrivata a 1,41 e 1,42, quindi si è molto svalutato. Ma sentiamo dal dottor Francesco Locci, che ci sta seguendo in collegamento dalla sala operativa della Banca della provincia di Macerata, l'andamento, le ultime notizie sull'andamento dei mercati finanziari. Ciao Francesco, come è andata oggi la borsa? Buonasera Enrico. Ciao. Diciamo settimana negativa per tutte le borse europee, che si apprestano a chiudere sulla parità. Ricordiamo che le borse europee stanno stornando per il tanto atteso tapering. Non si sa se il tapering inizierà a dicembre oppure verrà rimandato ad anno nuovo, pertanto le borse in attesa della chiusura dell'anno stornano magari per realizzare i profitti maturati fino a questo periodo. Anche i bond italiani ed i bond tedeschi aumentano di rendimento. sul decennale italiano oggi il tasso sta chiudendo al 4,10%. Ho già anticipato della continua svalutazione dello Yen, invece il dollaro? Il dollaro si mantiene su coda come la settimana scorsa, intorno a coda 1,35. E sembra rimanere stabile. Vedremo dopo il tapering che verso prenderà il cambio euro-dollaro. Ancora è presto per fare delle previsioni. Ecco Francesco, la prossima settimana che sarà quella conclusiva di questo ciclo di trasmissioni autunnali e invernali, parleremo un po' di questo tapering, parleremo anche del problema di fronte agli stress test che pare che siano opposti ai paesi che hanno, alle banche che sono troppo intasate di titoli del debito pubblico nazionale, ad esempio per l'Italia circa 400 miliardi di titoli del debito sovrano italiano, soprattutto BTP, che verrebbero considerati in maniera negativa, come peraltro lo si è sempre saputo, negli attivi delle banche e quindi potrebbero creare problemi, potrebbe creare problemi questa la loro presenza negli stress test. Ti ringrazio Francesco. A voi, buona sera. Purtroppo io debbo sostituire la mia collega Elisabetta che ha avuto problemi familiari nella sua rubrica La Posta e allora passo subito a leggere le due domande che abbiamo scelto fra quelle che ci sono pervenute durante la settimana. La prima ci arriva da Marco da Cingoli, il quale dice come mai i tassi Euribor stanno aumentando nonostante la recente diminuzione del TUR, allora per TUR si intende il tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea e per Euribor si intende, l'abbiamo detto più volte, il tasso con il quale le principali banche europee si scambiano denaro. È strano, certamente giusta la domanda del nostro ascoltatore, è strano che nei momenti in cui la Banca Centrale Europea taglia di un quarto di punto il suo TUR, il suo tasso di riferimento, i tassi interbancari, quindi l'Euribor nelle varie scadenze anziché diminuire aumenta. Allora questo si può spiegare in tre modi, il primo che verso fine anno normalmente i tassi delle banche, i tassi bancari aumentano, il secondo che una volta che viene, questo capita spesso in finanza, una volta che viene scontato un accadimento previsto, come appunto era previsto il taglio del TUR, l'Euribor riprende il suo iter normale e quindi tende a crescere perché si allontana la possibilità che ci sia un'altra riduzione del tasso di riferimento europeo. E poi il terzo punto di risposta che potrei citare è quello che molte banche europee che hanno rimborsato in tutto o in parte i finanziamenti triennali all'1% dati dalla Banca Centrale Europea, in attesa di averne altri a tassi più bassi, perché il TUR ripeto dall'1% di quei tempi si è ridotto attualmente allo 0,25%, si indebitano, qui c'è sul mercato interbancario e chiedono più denaro, ma per periodi brevi in attesa che appunto Draghi risolva i loro problemi, infatti è significativo che la scadenza che ha avuto, che è stata più sensibile a questo momento dei tassi è stata quella dell'Euribor a un mese, quello cioè più vicino, quindi tempi brevissimi. La seconda domanda ci arriva da Francesca di Civitanova Marche, la quale ci chiede, domanda tipicamente femminile, in questa fase di incertezza politica, finanziaria ed economica si sente dire che è meglio investire i propri soldi a breve, che significa in termini pratici? Ecco la risparmiatrice, che significa in termini pratici? Significa che i risparmiatori si tengono liquidi, cioè scelgono strumenti monetari o senza vincoli come un semplice conto corrente oppure vincoli molto brevi, massimo ad un anno e questa pressione di liquidità comporta una riduzione dei tassi, allora i tassi su un conto corrente libero anche per importi di una certa consistenza viaggiano intorno, leggermente superiori all'1%, ma sono calati anche i tassi con i vincoli a breve, 3, 6, 12 mesi, i cosiddetti conti di deposito che rimangono comunque un asset molto seguito, molto ricercato dai risparmiatori. Ecco, nei conti di deposito i tassi attuali alle 3 scadenze di 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi viaggiano rispettivamente all'1,50, 2%, 2,25, 2,50%, quindi a quotazioni ben diverse rispetto a quelle di qualche tempo fa. Penso di aver esaurito il mio compito e anche il mio tempo vi ringrazio alla prossima trasmissione. Buonasera. La banca della provincia di Macerata è una realtà solida destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente.